Dall'Off Broadway all'Off Alguero, lo teatrì, gioiello a 35 posti della città catalana, si trasferisce all'agriturismo e vigneti a Olmedo per un cartellone di musica, teatro e cene post-performance lungo quattro mesi. Ignazio Chessa, attore, scrittore e regista, è il creatore della Kermess. Da lui, nel 2018, l'idea di dar vita a una scatola scenica in sedicesimo, scavalcando le logiche del teatro ufficiale. Da lui, oggi, il progetto dell'Agriteatrì, come reazione e rivolta allo stallo causato dal Covid, per stimolare il settore artistico in crisi. Lo slancio è proprio dal desiderio di rinascere, di rinascere dalle ceneri, da quello che è lasciato proprio quando abbiamo cominciato a sentire che i teatri si chiudevano e non si prospettavano riaperture. Quanto possiamo aspettare? Ed è stato proprio l'Agriteatrì, tra i primi, a dare gambe alle performance degli artisti del territorio e non. Sul palco, costruito da Marco Velli e Fabio Loi, e illuminato da grandi luci, molti gli spettacoli proposti. Teatro di marionette, mix Disney, giullarate, monologhi o show a due, come nel caso proprio di Chessa e del suo sodale complice Claudio Gabriel Sanna, sabato scorso con oltre il limite dei 50. Storia di una vita teatro-comica, ripercorsa tra cover rivisitate, immersioni in Venezuela e le sue polverine magiche, Parigi e i ritorni grotteschi in patria, la Sardegna, col suo irresistibile corredo umano tra cui svetta l'irresistibile zia Franzisca. Ma soprattutto la narrazione di un irregolare, che fa della follia un metodo e nel piccolo ricrea mondi personali e collettivi. Agriteatrì continua tutti i weekend fino a fine settembre ed agosto anche con l'integrazione del giovedì. Nel territorio penso che lascerà molto perché molte persone anche da fuori stanno venendo e si stanno accorgendo di questo esperimento che penso sia vincente.